La sera dopo il tramonto a piazza Garibaldi verrà proiettata la pellicola di successo internazionale Metropolis. La sera dopo il tramonto a piazza Garibaldi verrà proiettata la pellicola di successo internazionale Metropolis. La sera dopo il tramonto a piazza Garibaldi verrà proiettata la pellicola di successo internazionale Metropolis. La sera dopo il tramonto a piazza Garibaldi verrà proiettata la pellicola di successo internazionale Metropolis. La sera dopo il tramonto a piazza Garibaldi verrà proiettata la pellicola di successo internazionale Metropolis.